signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale secondo appuntamento con il mega riassunto del mega dungeon la settimana scorsa abbiamo parlato della geografia del nostro mega dungeon e di come andare a esplorarlo questa settimana invece andremo a concentrarsi sugli elementi più caratteristici e narrativi e vedremo chi c'è all'interno di questo mega dungeon e quali pericoli specifici i giocatori dovranno andare ad affrontare tutto quello che vedrete come ho già detto è frutto del lavoro collettivo dell'intera community del canale io di mio mi sono limitato semplicemente a rimettere assieme idee che è stato un lavoro estremamente più complesso di quello che potrebbe sembrare ma di questo parleremo in fondo al video ora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la seconda parte del mega riassunto del mega dungeon come ho detto gli aspetti generali di quella che è la geografia e i metodi di esplorazione il mega dungeon li abbiamo già discussi nel video della settimana scorsa che vi lascio linkato qui in alto senza questo difficilmente capirete di cosa parleremo oggi quindi se non l'avete visto vi consiglio vivamente di andarlo a recuperare comunque ora che abbiamo una mappa almeno delle aree del nostro mega dungeon potenzialmente potremmo già cominciare a mandarci dentro gli avventurieri e cominciare l'esplorazione il fatto però è che per come stanno però alle cose l'esperienza sarebbe abbastanza blanda perché il nostro dungeon per ora è un ambiente statico giocatori potrebbero esplorare corridoi combattere contro mostri erranti generati casualmente potrebbe diventare un'intera esperienza procedurale in cui vengono creati corridoi mostri e loro trovano dei tesori però non ci sarebbe effettivamente una vera vita all'interno del mega dungeon con cui i giocatori potrebbero interagire il che potrebbe essere anche quello che il tavolo sta cercando magari il gruppo non vuole avere chissà quale interazione con l'ambiente ma vuole concentrarsi proprio sulla mera esplorazione combattimento o magari sta raccontando una storia molto più intimista basata sui singoli personaggi giocanti la loro psicologia e le relazioni l'uno con l'altro quindi teoricamente si potrebbe già iniziare a giocare ma noi non siamo qui a fare le cose a metà quindi questa settimana andremo a riempire di vita il dungeon quindi cominceremo a introdurre le fazioni che i giocatori troveranno al suo interno e la prima fazione che i giocatori probabilmente andranno a incontrare sarà quella degli esploratori che probabilmente sarà quella che nel momento iniziale gli sarà più favorevole anche se non sarebbe corretto definirla come una fazione alleata un gigantesco complesso e rovine sotterranee non passa sicuramente inosservato e ci saranno molti avventurieri disposti ad andare a rompersi il collo nella speranza di poterne uscire ricchi e famosi se inizialmente le prime esplorazioni nel mega dungeon erano state fatte da singoli gruppi di avventurieri o disperati in cerca di fama e di gloria con il passare del tempo sempre più gente è arrivata alcuni palazzi in rovina dello strato superficiale e dei livelli più alti del dungeon sono stati rimesti in sesto pian piano si sono venute a creare delle vere proprie piccole comunità di gente che esplorava il dungeon in cui ben presto sono arrivati prima mercanti specializzati nel rifornire agli avventurieri di beni e servizi che gli serviranno per l'esplorazione e poi quando il fatto che il dungeon effettivamente poteva contenere qualcosa di veramente interessante le voci sono arrivate ai vari governi che hanno mandato le loro spedizioni con tanto di nobili minori altri funzionari statali a prendere il controllo di alcune zone o di alcune di queste comunità e cominciare a gestirle come se fossero delle micronazioni e questi tre saranno i tre archetipi fondamentali dei png che compongono questa fazione cioè i nobili che sono disposti a pagare la tua mente ipng in cambio delle informazioni o delle tecnologie che potranno riportare o del fatto che i pg possano agire come agenti sabotatori riguardo altri nobili altri governi i mercanti che in realtà saranno del tutto indifferenti ai pg fin tanto che verranno pagati e che sono interessati a scambiare i tesori con merci e servizi per procurarsi altri più tesori e poi come terzi gli avventurieri veri e propri cioè gli altri che fanno lo stesso lavoro dei pg c'è quello di andare a catafottersi sotto terra nella speranza di diventare ricchi a seconda della situazione questi potrebbero essere dei grandissimi alleati dei giocatori perché vedono i loro personaggi come stimati colleghi ma potrebbero essere anche i loro peggiori nemici perché fondamentalmente la quantità di tesori è limitata e se i giocatori trovano un tesoro vuol dire che loro non potranno più trovarlo e gli avventurieri di solito non sono così brave persone proseguendo dall'alto verso il basso gli avventurieri proseguendo la loro esplorazione del mega dungeon prima o poi entreranno in contatto coi costrutti che abitano i piani inferiori la maggior parte di loro non sono creature intelligenti quindi le loro interazioni con i giocatori dipenderanno da qual è il motivo per cui sono stati originariamente costruiti meccanismi di sicurezza o automi messi a guardia a qualche struttura specifica potrebbero essere incredibilmente automaticamente ostili a chiunque appaia davanti a loro magari anche in maniera immotivata dal punto di vista dei personaggi perché quello che loro effettivamente stanno difendendo magari è già andato distrutto da millenni ma il costrutto stesso non abbastanza autocoscienza da capire che non c'è più bisogno di proteggere la zona o magari al contrario potrebbero essere del tutto indifferenti alla presenza dei personaggi e limitare a difendersi solo se attaccati o magari anche in quel caso semplicemente allontanarsi più fretta possibile nonostante il rapporto di forza sia a loro vantaggio questi ultimi semplicemente non erano stati originalmente progettati per il combattimento quindi lo eviteranno in qualsiasi circostanza potrebbero comunque essere molto utili come incontro per il master già anche solo per mostrare almeno degli squarci di che come era la civiltà che oramai è andata perduta magari dando anche un senso di malinconia per sottolineare tutto quello che è andato perduto gli avventurieri entreranno in una stanza dove c'è ancora un automa che sta spolverando dei mobili che in realtà sono andati in polvere da secoli o qualcuno che sta pulendo un pavimento le cui mattonelle in realtà sono oramai quasi del tutto saltate alcuni di questi potrebbero rivelarsi anche dei veri e propri enigmi per gli avventurieri che se riescono a capire qual era la funzione originaria del costrutto potrebbero ricevere dei vantaggi o farlo lavorare al posto loro i più pericolosi tra questo tipo di costrutti all'interno del mega dungeon saranno gli imponenti macchine scavatrici degli antichi delle creature serpentine lunghe decine di metri che sono state originariamente concepite per scavare i tunnel che formano l'enorme struttura alcuni di questi sono ancora attivi in realtà non saranno ostili nei confronti degli avventurieri semplicemente non saranno coscienti della loro presenza e potrebbero semplicemente travolgerli e sbriciolarli considerandoli all'affari di qualsiasi altro ostacolo ambientale che radono al suolo per scavare lo tunnel potenzialmente estremamente pericolosi ma anche in questo caso se gli avventurieri sono furbi potrebbero sfruttarli per farsi aprire dei passaggi in aree che attualmente non sono accessibili ci saranno poi due sottofazioni all'interno di questa categoria formate dai costrutti senzienti che si distingueranno tra di loro per la contrapposizione ideologica sul fatto che la gente che è venuta a esplorare al dungeon sia potenzialmente amichevole o comunque degna di rispetto o se siano semplicemente degli invasori che devono essere sterminati a tutti i costi inutile dire che per gli avventurieri sarà molto più conveniente incontrare i primi che i secondi molti di questi costrutti senzienti saranno antichi quanto il dungeon stesso e quindi potrebbero essere in possesso di informazioni di estremo valore per gli avventurieri se in un modo o nell'altro vengono persuasi a rivelarle la cosa più inquietante però sarà che nessuno dei costrutti sembra in grado di spiegare o vuole spiegare quale sia stato il motivo per cui l'intera struttura sia stata abbandonata e per quanto rimangano ancora tesori resti macerie è impossibile trovare i resti di quelli che erano gli abitanti originali del mega dungeon c'è chi pensa che sia stato ordinato loro di non rivelare mai dove gli abitanti originali sono andati c'è chi pensa che quello che ha distrutto gli abitanti originali abbia in qualche modo interferito anche i loro costrutti ma c'è anche chi ritiene che è possibile siano stati loro la causa della sparizione dei loro costruttori originali queste saranno le due fazioni principali che popoleranno il mega dungeon e a seconda dei casi e degli specifici png potrebbero essere i migliori alleati o i peggiori nemici dei personaggi giocanti questo non vuol dire però che il nostro mega dungeon non conterrà anche altra gente e altre fazioni minori le prime due sono concentrate principalmente negli stati più alti anche se è poi possibile trovarle in realtà praticamente ovunque ma introduciamo anche delle fazioni minori dei gruppi più locali per le varie aree nelle giungle umide della fascia centrale del mega dungeon esiste una sua popolazione autoctona ma nel corso del tempo si è venuta anche a creare una comunità di tutti quegli avventurieri e altri affaristi che arrivando dagli strati più alti hanno deciso di fermarsi qua dove i tesori sono più vicini e l'influenza di governi e nobili molto meno diretta al di là della praticamente totale assenza di una qualsiasi forma di illuminazione naturale questa zona è molto ospitale quindi è facile che si formi una comunità anche abbastanza prospera il terreno è umido ed è coltivabile stiamo parlando comunque di una zona che è una giungla quindi sicuramente le cose crescono velocemente e viste le condizioni climatiche della zona di superficie estreme e anche il caldo incandescente che arriva da sotto questa è proprio una delle poche aree anche al di fuori del mega dungeon in cui è facile trasferirsi e abitare nel corso del tempo questo ha visto la formazione di una vera e propria comunità di gente che è scappata qua sotto dalla superficie per quanto questa potrebbe essere semplicemente considerata una sottofazione della fazione degli esploratori in realtà è meglio considerarla una fazione a parte perché al di là dell'origine comune i loro scopi sono abbastanza divergenti gli esploratori della superficie vedono il dungeon come un posto da cui ricavare tesori e basta una volta che il dungeon sarebbe svuotato il loro interesse sparirebbe immediatamente per i coloni della fascia centrale invece il dungeon è un posto che loro vogliono rimettere in sesto e colonizzare questo è il posto dove loro sono intenzionati a vivere i tesori sono più che altro un comodo mezzo di scambio per darli a quelli di superficie e ricevere in cambio quello che gli serve per stabilire la loro colonia e che non possono ancora procurarsi da soli qualcuno però aveva già avuto la loro idea prima e adesso in diretta contrapposizione ai coloni c'è la fazione dei nativi una serie di lasche confederazioni di tribù di umanoidi retti riformi e uomini pesce che vivono nel grande lago che in realtà vivono qua dentro da infinite generazioni si sono adattati all'ambiente naturale e ovviamente vedono i coloni come degli intrusi dei colonizzatori e fondamentalmente gente che minaccia il loro stile di vita e deve essere respinta il loro principale svantaggio è che sono tecnologicamente molto meno avanzati dei popoli di superficie ma al contempo sono molto più in sintonia con l'ambiente naturale dove vivono sia perché lo conoscono meglio essendo letteralmente casa loro sia perché nel corso della loro storia hanno sviluppato particolari poteri sciamanici e druidici legati proprio al loro ambiente e probabilmente anche a le informazioni che loro hanno avuto molto più tempo e gli altri di ricavare sulle origini del mega dungeon per quanto questa fazione sarà molto probabilmente inizialmente più ostile di quella dei coloni agli avventurieri gli avventurieri hanno degli ottimi motivi per cercare di farse gli amici sia per usarli come guide autoctone ma anche perché potrebbero proprio avere delle informazioni che per gli avventurieri sono fondamentali e di cui magari loro stessi hanno dimenticato l'importanza e non si rendono conto di avere probabilmente la fazione dei nativi sarà inizialmente più ostile agli avventurieri rispetto a quella dei coloni però i giocatori potrebbero decidere che è molto meglio renderseli amici perché loro hanno proprio queste conoscenze del territorio e quindi potrebbero aiutarli sia come guide indigene ma anche perché potrebbero fornire loro queste conoscenze che magari loro stessi non si rendono conto di avere perché la loro vera natura è stata dimenticata attraverso i secoli scendendo ancora più in basso il nostro mega dungeon arriverà nella zona vicino al nucleo caldo del pianeta che non sarà affatto un bel posto dove andare caratterizzata da temperature estremamente alte sfoghi magmatici solfatare gas velenose e probabilmente una flora una fauna adattata a questo ambiente estremo se non addirittura creature elementali legate al caldo il fuoco che scorrazzano movimenti in giro questo non vuol dire però che qui non sia possibile incontrare persone civilizzate anche se dipende molto da qual è la vostra definizione personale di civilizzate questa zona è ricca di risorse naturali che vista l'estrema profondità a cui vengono generate e alle estreme condizioni di temperatura e pressione che servono perché si sviluppino spontaneamente sono difficilmente raggiungibili in realtà in qualsiasi altra parte del mondo ma qua il grosso lavoro di scavo è già stato fatto dalle macchine scavatrici degli antichi e quindi si sono venute a creare varie micro comunità fondamentalmente che esistono in funzione della relativa miniera abitate da molte razze in realtà al di che vengono dal di fuori del mega dungeon ma che già per loro erano abituate a vivere in ambienti di profondità principalmente queste colonie saranno abitate da nani che daranno un po il nome alla fazione ma al loro interno sarà possibile trovare anche altri popoli civilizzati del sottosuolo interessati a sfruttare appunto queste risorse alcune delle quali estremamente mondane metalli preziosi e cose del genere ma anche delle particolari vene di un minerale cristallino che non sono presenti da altre parti del mondo e sembra essere in qualche modo legato al funzionamento della tecnologia degli antichi ed è quindi estremamente ricercato dagli abitanti alla superficie sia come risorsa di lusso che come punto focale della sperimentazione magica di molti governi questa zona in più rappresenta anche le vere e proprie terre selvagge della nostra ambientazione quindi bisogna aspettarsi che queste colonie molto più piccole meno numerose sparse in giro in questo ambiente estremo siano abitata da gente molto più rude diffidente sia di quella superficie che di la colonia nelle zone centrali diciamo che questa è la vera e propria terra di frontiera dell'ambientazione quindi non sarebbe sbagliato dagli una caratterizzazione western e nelle zone selvagge con una caratterizzazione western quello che sicuramente è possibile trovare sono i banditi questi saranno fuggiaschi reglietti rifugiati politici veri e propri criminali o anche bande di avventurieri fin troppo malvaggi anche per gli standard degli avventurieri stessi che in un modo nell'altro si sono ricongregati in grosse bande di criminali che vivono depredando le carovane che trasportano i metalli e i cristalli magici dal sottosuo alla superficie e i rifornimenti dalla superficie al sottosuolo per la fazione dei banditi gli avventurieri più che potenziali alleati sono potenziali bersagli quindi è più probabile che all'inizio gli avventurieri incontrino come mostri erranti sicuramente però a seconda della morale del gruppo e del loro interesse anche in questo caso potrebbe essere preferibile farsi amici loro invece che i minatori per il fatto che non solo questi sono più pericolosi ma una fazione dei criminali potrebbe avere accesso a delle risorse da mercato nero che per quanto rare sono praticamente impossibili da ottenere altrove o potrebbe contenere individui con conoscenze molto particolari magari fondamentali per quello che gli avventurieri vogliono fare per quanto sgradevole possa essere dopo tutto gli avventurieri non sono scesi fino qua giù per farsi degli amici e con questo abbiamo toccato tutti i punti fondamentali di cui abbiamo parlato in questa stagione quindi usando questo come template dovreste essere in grado di progettare il vostro mega dungeon per fare esplorare i vostri giocatori oppure banalmente rubare questo che probabilmente è la cosa più semplice prima di concludere voglio prima di tutto ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto comunitario e soprattutto scusarmi su quelli che volevano partecipare ma non hanno potuto fare in tempo quando ho proposto originariamente l'idea del mega dungeon alla comunità del master k è infatti la mia idea era quella di dare più di un mese di tempo in modo che tutti potessero mandare le loro risposte con calma quello però che è successo nella realtà è che a due giorni dall'avviso che ho fatto era arrivato così tanto materiale che in realtà volerlo analizzare tutto nel dettaglio sarebbe diventata una serie di 20 puntate sono arrivate in due giorni nuove proposte ognuna delle quali era abbastanza grossa da essere una quest a sé stante e in un paio di casi vere e proprie ambientazioni che avrebbero potuto ospitare un'intera campagna tra l'altro il materiale che è stato inviato era così tanto che alla fine mi sono reso conto sarebbe servito un video di spiegazione anche solo su come fare a discriminare il materiale è una cosa che potrebbe succedere a tutti i master nel caso volessero creare qualcosa assieme ai loro giocatori magari creare collettivamente l'ambientazione della campagna e si trovasse una mia stessa situazione cioè di avere molta più roba di quella che effettivamente avevano pensato di ricevere dato che io sono io quel video è diventato quattro video distinti che io ho scritto mentre mettevo assieme il materiale per questi due video ma non ho ancora girato quindi se avete delle domande specifiche riguardo a quello che abbiamo trattato in questi ultimi due episodi siete ancora in tempo a farli i video sono programmati poi per uscire ad agosto durante la pausa estiva mentre io sarò lì a scrivere il libro che abbiamo presentato con mauro longo ai modena play tanto le ferie sono sopravvalutate per questa miniserie invece è tutto dalla settimana prossima riprenderemo la programmazione regolare del canale tra l'altro tornerà rubrica il di 20 system che negli ultimi anni sta venendo un po lasciata indietro ma dovremo parlare del tesoro che è poi il motivo per cui alla fine si va dentro il dungeon quindi sarà uno degli argomenti conclusivi di questa stagione come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto e scrivetemi anche se magari avete le domande specifiche per questo mega dungeon così magari vi risponderò nei video di luglio ancora tempo per scriverli spero almeno per il resto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo più da crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server disco dal gruppo telegram dove tra l'altro organizziamo queste cose oltre a pubblicare io e video manualmente per il resto io sono il master car e noi ci vediamo nel prossimo video